C'è comunque il secondo, ecco, l'ha asserito un casino di San Vizzano e a questo punto il primo, se non c'è più. Primo, no, il primo c'è più. Direi che più leggilo senza far vedere tanto è uguale. No, 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 scusate, io vi voglio dare. È arrivato! Non è, ce l'abbiamo in perleosa! Ce l'abbiamo in perleosa! Non c'è un casino di San Vizzano! Una brava! La spicciolata! Riccardo! Bene, per cortesia, leggi direttamente, se non ce l'abbiamo sempre, leggi il vincitore della categoria, Davy Stroess. Vice premio Valhavors, più re e quindici, il mio mistro dell'anno, meraviglioso mistro, Senigallia! La grande gina è buona! Senigallia! E abbiamo il mio figlio! È lui! È lui! Sono nuovo! Ed eccoli qua, pronti per la foto! Direttamente, questo è il vostro premio! Complimenti! Complimenti! Bravissimi! Vabbè, essere un piccolo mistro! È grande, è grande! È grande! Ma, ma, eh, guardia il microfono! Ma sì, esatto, grazie! Ho già pensato a qualche archetto, ma, eh, qual è il vostro punto? Il segreto! Il segreto! Ah, il segreto! Il segreto è quindi piano a me! Ah! Love Letters in the Sand, cantava Pat Boone negli anni 50! E quindi siamo per raccontarci anche delle mie storie, che non sono soltanto professionali, ma anche questo! Sicuramente è fatto una faccia vostro... Te cogli il premio? Che non so mai? Scusate, come la faccia da bistrot! Non si faccia! Più da bistrot! Per noi, per noi, per noi! Grazie! Incentrati! Molto bene! Grazie! Hai fatto bella? Vuoi rifarla? Faccio come Nicola Sejan! Certo! Ci ricordetta! Grazie! e visto